Debutta il 9 ottobre in prima nazionale al Brancaccio a Roma, Aladin, il musical geniale, un grande family show ispirato alle avventure di Aladino e del genio della lampada, con protagonisti Leonardo Cecchi ed Emanuela Rey, ideato e diretto da Maurizio Colombi. Lui è Jaffar, quello di fianco, il Tarzan, è Abdul, l'amico di Aladin, un personaggio che non c'è nella storia originale che è stato inserito in questa fiaba. Cecchi, 21enne attore, cantante, ballerino italo-americano, noto per la serie tv Alex & Co, interpreta il ladruncolo scansonato Aladin. Dopo aver finito le superiori e finito l'avventura con Alex & Co e Disney, mi sono trasferito a Los Angeles, perché era il mio sogno fin da quando avevo due anni. Io sono nato negli Stati Uniti, a Minneapolis, nel Minnesota, mi è mamma americana, quindi l'inglese non è un problema e la cittadinanza ce l'ha americana, quindi mi sembrava la cosa giusta da fare. Leonardo studia recitazione e nel tempo libero frequenta la facoltà di chimica all'università. Mi piace molto. E' un secchione. E' un secchione, sì, perché il successo è un'abitudine, quindi cerco di andare sempre al meglio in quello che faccio e sono contentissimo di fare parte di questo bellissimo cast, di questa bellissima produzione e sono davvero contento, quindi grazie mille. Emanuela Rey, nota per aver interpretato Maggie Davis, protagonista della serie tv Maggie & Bianca Fashion Friends e invece la dolcissima Jasmine. E' stato un po' inaspettato, però grazie a tutti voi. Ma il tuo colore di cartellino è alcol? E' biondo cenere. Biondo cenere? Quasi più, biondo, sì. E adesso invece sono scura. Però no, grazie veramente per questa opportunità perché per me è la prima volta in un musical quindi ce la stiamo mettendo tutte insieme a Leo, mi sto trovando benissimo con lui, stiamo facendo una grande coppia e con tutti gli altri perché devo dire che grazie a tutti loro ci insegnano veramente tantissime cose che fanno questo mestiere da molto più tempo quindi è veramente bello condividere questa esperienza con tutti voi. Il musical che resterà in cartellone fino al 2 dicembre vede la partecipazione straordinaria di Sergio Friscia alias il genio dell'anello e di Umberto Noto nel ruolo del genio della lampada Maurizio Semerero in quello di Giaffar per un cast di 20 tra attori, cantanti e ballerini mentre le musiche originali e gli arrangiamenti sono di Davide Magna Bosco, Alex Procacci e Paolo Barillari ovvero i tre autori di Rapunzel, Magna Bosco. Musicalmente ci siamo sbizzarriti, il musical passa dalla sinfonica alla musica araba, alla musica indiana, alla musica pop e stiamo cercando, perché lo stiamo ancora facendo, è un lavoro molto complicato di Cesello di incastonare tutto in un unico piano sonoro che lo spettacolo avrà delle parti suonate proprio dal vivo da me al pianoforte con una tastiera particolare, con dei suoni speciali accompagnerò anche i ragazzi in alcune canzoni, sottofondi insomma ci sarà una colonna sonora cartoon che accompagnerà poi tutto lo spettacolo siamo tutti con la medaglia grazie! 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 grazie!